Barese in rosa. Crescono nella nostra provincia le donne manager. Sono proprio le donne infatti a rappresentare un quinto degli imprenditori attivi sul territorio e i dati sono in costante aumento. Numeri alla mano, la Camera di Commercio evidenzia la presenza di ben 12.391 donne titolari d'azienda al 31 dicembre scorso. Valore in crescita dell'1,4% rispetto al 2015. Seppur in questi tre anni il numero di aziende complessivamente attive si è diminuito, passando da 61.909 a 60.800. Dati importanti che confermano la provincia di Barese una delle più floride in Europa con una media di 51 imprese per chilometro quadrato. Sono numeri preziosi, spiegano i vertici di Grenche Italia, azienda che offre supporto agli imprenditori con particolare riguardo al settore femminile, soprattutto se si considera che la collaborazione tra uomini e donne in azienda favorisce la crescita della stessa. La provincia di Barese a livello nazionale gode di una posizione particolarmente privilegiata. Basti pensare che ad oggi contiamo quasi 67.000 partite IV attive, quindi significa che siamo in una realtà dove la piccola e media impresa regna sovrana. Di queste 67.000 partite IV più del 71% sono riferite ad aziende piccole, medie imprese che sono come sappiamo tutti lo zoccolo duro della nostra economia. Quindi parliamo di aziende che hanno meno di 10 dipendenti. È un'area molto florida, basti pensare che nel 2016 quest'area ha prodotto più di 23 miliardi di fatturato e nel 2017 questo fatturato è salito ad oltre 24 miliardi. Il trend assolutamente positivo è confermato anche per l'esercizio che si è appena chiuso, quindi questo significa che è una zona florida, le aziende aprono, siamo eccellenza a livello italiano come provincia. Anche perché, ricordiamolo, poter favorire il lavoro delle donne, quindi far sì che all'interno delle aziende vi siano uomini e donne, è fondamentale anche proprio per il benessere economico del territorio dell'azienda. Assolutamente, è stato scientificamente provato che favorire comunque la diversità all'interno delle aziende costituisce un vero e proprio vantaggio competitivo, quindi al di là dell'aspetto etico che sicuramente è un aspetto che a noi tocca particolarmente, è un aspetto oggettivamente incentivante per tutte le aziende. Grazie a tutti.